Un'edizione della Becquery Winter Cup che ci rende molto orgogliosi perché hanno racchiuso quello in cui la Becquery crede fortemente tra i valori che sono la condivisione, la collaborazione e il conflitto. Ci terrei a partire dal concetto della collaborazione per la sinergia che si è creata per questo torneo con Biacenza Basket Club e Pudenzano che ci hanno prestato atleti per completare la nostra squadra nel 14. In particolar modo il ringraziamento va a Biacenza Basket Club che inoltre ci ha anche messo a disposizione nelle giornate del 27 e del 28 di dicembre il loro campo, il Vali Italia Chef. Per quanto riguarda la condivisione venivamo da un periodo concentrato poi in questi tre giorni in cui abbiamo avuto diversi problemi all'interno dello staff a causa dei russi influenzali quindi anche se lo staff è stato rimaneggiato, chi era presente ha dato il proprio contenuto c'è stata condivisione del problema della mancanza dei colleghi e abbiamo comunque gestito al meglio tutto il torneo. Per quanto riguarda invece il confronto, come succede sempre nei tornei che organizziamo c'è stato confronto tra idee diversi di palacanestro perché le squadre provenivano da esperienze diverse, provenivano da regioni diverse e quindi c'è stato un confronto continuo tra staff e tra società e questo crediamo che sia il maggior arricchimento che può portare sia agli atleti che giocano ma anche agli adulti, agli allenatori, ai dirigenti che per tre giorni possono parlare di palacanestro e confrontarci sulle idee e sulle varie modalità di gioco. Quindi siamo molto contenti, nuovamente un'edizione riuscita e forza Vecchia!